Ciao ragazzi, oggi è il 13 luglio 2023, sto andando ad Albino in provincia di Bergamo per suonare con i miei Queen Essence allo Spritzenburger, appunto ad Albino serata che potrebbe saltare causa meteo, però spieghiamo di no, dai, sembra che il tempo possa permettere una serata all'insegna dei Queen, ciao! Ok, sono arrivato qui alla location, molto carino perché comunque all'aperto c'è il sole quindi penso proprio che suoneremo, ci sono delle pozze incredibili a terra, come potete vedere gente che scarica, gente che vlogga Ciao, ciao amici di Frank Campese! Ciao, ciao! Porto la valigetta? No! Ok, io ho le cose leggere perché ho un'età Guardate, stasera c'è anche la piscina Dai, magari con questo sole si asciugherà Andiamo il palco Questa sera ci sarà un ospite d'eccezione a suonare con noi, il batterista della Still Love You Band Queen Cover Band Tribute Band Stefano A più tardi Andiamo un attimo in riva Vereno scivoloso Acco, vediamo Fantastico Si suoneremo vicinissimi a questo fiumicciattolo che non so quale sia, se rio, o rio al serio, non so, vicinanze di Bergamo, abbastanza in piena direi. All these things that feel, I'll give, God slips away from us. He wants to be the Lord, he wants to be the Lord, he wants to be the Lord. There's no chance for us, it's all decided for us, this one is only one, sweet moment, so sad for us. He wants to be forever, wants to be forever. Oh, yeah. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Ah no, è vero che è santista quell'altro. Presenti dai. Lui ha 19 anni. Lui ha 19 anni. Come più utile. Sì, no? 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 Sì. Sì, no? 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 Grazie mille a tutti. Buona bambino, fatemi sentire. L'ultima urla. Grazie mille a tutti. Buonanotte a tutti. L'ultimo, voglio l'ultimo urlo. Grazie mille. Al basso è la voce Mr. Andrea del Signore. All'initore è la voce, il mito Frank Cortese. E' la batteria Stefano Lucconi. E' la voce Mr. Alessandro Stocchi. Grazie mille. 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 Grazie mille.